Per favore, una comunicazione molto importante. Sono stato vittima di acchiaraggio, mi hanno rubato l'indirizzo mail e stanno mandando delle mail con richiesta di soldi a nome mio. Se ricevete richieste di questo tipo, per favore, non rispondete e cestinate subito il messaggio. In questo momento non sono in grado più di entrare nella mia mail, per cui non posso leggere i vostri messaggi o i vostri iscritti. Se volete contattarmi, per favore, fatelo attraverso Facebook. Grazie, un saluto.